...tepico, parlettato e il cuore negativo... Ecco, si capisce anche fuori... La signora è graziosa, signore, dietro... Appresso... Così dedicata, così efebrica... La fammocca a mano... Eh, 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 eh... Questa è cultura popolare, signore... Eh, certo, certo, c'è le arti... ...e un uomo che sta spasciando da ore... ...io mi raccomando per la frase che si è andata... ...del codice renale... Il signore è particolarmente carico, tiene in servo questa cosa... ...allora, le tagliano la strada... ...le tagliano la strada e il microfono... ...attenzione... ...benzi anni che mi ascoltano... Ah, ecco... ...da quattro anni prima che cominciassi... ...mi ascoltavo... ...allora, qual è questo... questo... sbocco? A fare di domenica... ...no... ...a quello non è tipicamente pugliese... ...quello è un gesto... Eh, eh, eh... ...la giù, la giù, la giù, la giù... ...eccolo lì... ...mei, mei, mei, mei... ...mei, mei... ...quale frase ci propone, diciamo... ...piano piano, eh? ...ma vorrei ringraziarvi di essere venuto a parlare... ...quando vi ho fatto l'invito a mare... ...sì... ...e quindi... ...mi esprimo solo con questo disegno qua... ...sì... ...altrove... ...no, in parlare qua... ...eh... ...piano piano, 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 piano... ...piano piano, piano, piano... ...cioè, meglio... ...medio a dire che saper fare... ...ecco, eh... ...io, chissà che te lo... ...no, no, no... ...va bene, va bene... ...va bene, va bene... ...signorina... ...da lei mi aspetto qualcosa di delicatissimo... ...e di gentile... ...delicatissimo... ...allora, questa è foggiano però... ...è foggiano... ...vabbè, siamo sempre in puglia... ...vabbè, siamo sempre in puglia... ...vabito l'ogni e paparella... ...eh... ...io ho capito solo paparella... ...vabito... ...vabbè... ...vai a mettere lo smalto sulle unghie delle pappe... ...bella, bella... ...questa è creativa... ...e come asciugare gli scogli... ...pettinare le bambole... ...è bello... ...se sembra... ...vabito ogni pappe... ...la suggeriam a Bersagli... ...la suggeriamo a Bersagli... ...che altro, quattro, quattro... ...è tutto un... ...eh, guarda qui... ...ehh... ...ecco la signora che si propone... ...signora, buongiorno... ...lea di barletta... ...o un microfono arriva alle sue spalle, eccolo lì... Allora, buongiorno. Buongiorno, sono Felicetta, che vengo da Trani. Quindi, mi dispiace dirlo, però... Wait till the corn, c'è matta! Corna, lo capisco, c'è matta. Fiorite! Ah, vedi! Che bello, ricorda! Le corna fiorite! Ma che meraviglia! Pure fiorite! Ancora, la giù, la giù, la giù. Sì, sì, sì. Un'imprecazione tipica all'esempio che hai riportato tu, è Chris che non dà cide, e i morti che non dà cocchi. Gesù che non ti uccide, e i morti che non ti accorgo. Una maledizione totale, una cosa terribile ancora, chi è? Qua giù, qua giù, qua giù. Cite stranindender. Cioè? Eufemismo di chi ti è morto. Ah, è una vita metafora. Ancora, ancora lì? No, il bimbo pure. In realtà è parete, perché è valentana, però, dindela a capo, solamente lo spazio della rete. Ah, bella, bella, bella. Questa gira per il paese. Il giovane è qua dietro. Allora, piano piano. Piano piano. Lei, lei si chiama? Alberto. Ma che bel bimbo. Alberto, piano piano. Alberto, quale frase lei ha sentito dire? Se uno ti farà bene. Da papà in un momento di nervosismo. Lei ha sentito dire, piano piano. Eh? Eh? Terramenda. Terramenda? Ti devono appendere. Ti devono appendere. Un bel bambino, ti devono appendere. Che ti impicchino. Chi altro? Lì, la signora. Le donne sono terribili. Eh sì? Fate correre il microfono. Ah, fate correre il microfono. Ecco che arriva, il microfono, di corsa. Allora, ecco la. Lei di dov'è? E io sono di Bari. E che cosa si dice? Un testo e morì di sabata. Di sabata? Di sabata? Cosa vuol dire? Io sono Stefano, vengo da colato. Sì. Tine che ho corda tu per la sicchia da ciamarucca. Eh? Devo dire che le corda sono protagonista sempre. Sì. Sì. Io ringre. Eh? Io vorrei veramente che Vi Aldo applaudisse. Bravissimo.